Quindi non si tratta di vaccini, si tratta di una terapia che arresta, attenua certamente, ma dopo sei mesi, un anno, questi effetti vanno riducendosi fino a spegnersi. Per cui questa storia oggi, già oggi, questa storia del Grip Pass serve poco o niente. Sicuramente se fossimo tutti vaccinati al 100% ci sarebbero lo stesso, i contagiati, quelli in terapia intensiva e quelli che muoiono. Però i dati dicono... Allora lei mi dice, prima parla e poi parla lei. No, ma le dico semplicemente, voglio sentire anche Bartoli, ci sarebbero, certo, nessuno dice che il vaccino ci preserva completamente dal contagio, perché ci sono un sacco di persone che sono fatte il vaccino e sono contagiati lo stesso. Noi, i medici che abbiamo avuto qua, come per esempio il professor Galli, ci preserva soprattutto dalle terapie intensive dal cimitero. No, perché muoiono lo stesso, no, ci sono morti lo stesso, ci sono in terapia intensiva lo stesso, ma molto meno. Il mio problema non è questo, che io sono per il vaccino, è chiaro, anzi vorrei che fossero tutti 100%, anche i bambini paradossalmente vaccinati, così si vedrebbe che il Covid c'è lo stesso, che si muore lo stesso, se va in terapia intensiva lo stesso, perché questo farmaco non vaccino opera in questi modi. Quindi bisognerà pure pensare ad una strategia diversa, visto che il vaccino non basta, si potrà pure pensare a strategie mediche, si potrà pure sapere che in Giappone, dove i vaccinati sono il 20%, hanno risolto il caso e i vaccinati sono il 20%. Ci sono anche altre cose, o è vaccino o morte, questa sarebbe scienza a casa sua. Questa è la verità, il vaccino, altro no, niente, nient'altro, solo il vaccino. Ecco, allora sentiamo anche Ferruccio e Bartoli qui.